Il meteo è offerto da Centro Revisioni Florio Calandra Benvenuti al metodo di Filjush TV Vediamo insieme le previsioni di venerdì 3 settembre Una circolazione depressionaria arriva sulla regione portando qualche nube e qualche pioggia Sul litorale tirrenico, cieli sereni con addensamenti nuvolosi in serata Sul litorale ionico, quello meridionale, sull'Appennino e nelle zone interne, nubi in aumento con deboli piogge A partire dal pomeriggio, schierita in serata Venti deboli, mari poco mossi Vediamo ora le temperature Grazie e appuntamento al meteo di domani Grazie a tutti